Ben ritrovati, nonostante siano ormai 50 anni che il nostro gruppo protagonista di oggi non è più in attività, insomma non pubblica più materiale esclusivo, suo nome non può certo passare inosservato e lo ricorderemo fra poco. Stiamo infatti parlando dei Faces, la band britannica che nel 1971 firma un brano indimenticabile che vogliamo proprio ospitare oggi, si tratta di Stay With Me. Forse qualcuno lo ricorderà, è un singolo estratto dall'album A Nod Is Good As A Wink To A Blind Doors, insomma un titolo molto lungo ma anche autori di peso come Rod Stewart e Ronnie Wood. Il testo descrive l'incontro con una donna di nome Rita a cui il cantante propone un'avventura di una notte a condizione che non si faccia più trovare però nel letto a suo risveglio. Il singolo all'epoca raggiunse la posizione numero 17 della Billboard Hot 100 statunitense e trascorse due settimane alla 10 nella top 100 di Cashbox, altrove è arrivata anche sesta nella official singles chart britannica e quarta nella classifica canadese. Quanto a loro la voce appunto era quella di Rod Stewart che poi ha proseguito con una carriera da solista di tutto rispetto, mentre Wood era la chitarra solista e slide guitar. A completare la banda anche Ian McLagan al pianoforte elettrico, Ronnie Lane al basso e Kenny Jones alla batteria. Facendo un passo indietro infatti i Faces furono un gruppo rock and roll formatosi nel 1969 sulle ceneri, diciamo così, dei componenti degli Small Faces dopo che Steve Marriott lasciò il gruppo per formare invece gli Humble Pie. Ron Wood e Rod Stewart, entrambi provenienti dai Jeff Beck Group, si unirono all'ex Small Faces Ronnie Lane appunto e poi a Ian McLagan e Kenny Jones che completarono la formazione. La loro carriera si svolse nei primi anni 70, prima che Rod Stewart iniziasse la sua carriera da solista, invece Ronnie Wood si unisse ai Rolling Stones nel 75. L'ultimo album, Oh La La, uscì infatti nel 1973 e aveva in copertina, forse qualcuno lo ricorda, una foto del noto attore italiano Ettore Petrolini. Secondo noi però il nostro brano scelto oggi, che ascolteremo tra poco, ha ancora una sua brillantezza a dispetto degli anni, diciamo uno smalto, riflette un senso di casualità e di stacco nelle relazioni. Nei versi l'oratore riconosce la natura temporanea dell'incontro, afferma che al mattino la persona non deve professare amore perché sarà prontamente allontanata. L'incontro con Rita è descritto come un breve incontro a una festa, dove l'attrazione fisica sembra essere il fattore principale in gioco. Poi si cita anche il profumo, l'aspetto di Rita, che enfatizzano la natura superficiale del loro legame. Il ritornello invece sottolinea l'appello, come dire, del cantante affinché la persona rimanga per la notte, sottintendendo il desiderio di una compagnia temporanea o comunque di un'intimità prettamente fisica. Poi però c'è un senno di disperazione, come se stesse cercando di convincere se stesso che questo incontro è significativo. Nella strofa finale invece si rafforza la natura temporanea di questo incontro e si riconosce che la persona, appunto l'altro, se ne andrà al mattino offrendosi di pagare il taxi e poi promettendo a lei di usare la sua migliore colonia, alludendo alla sua disponibilità a passare all'incontro successivo. Insomma, nel complesso Stay With Me ritrae un legame fugace guidato dal desiderio fisico ma privo di profondità emotiva e la canzone evidenzia poi la riluttanza dell'autore a impegnarsi in una relazione seria. E allora adesso lasciamo le parole e diamo spazio alla musica. Grazie a tutti per aver guardato il video.